Esercizio 4 Calcolare la seguente espressione contenente divisioni di monomi Per prima cosa dobbiamo calcolarci le eventuali potenze presenti Qui ne abbiamo tre, questa è la prima, questa è la seconda e questa è la terza Solo in un secondo momento passeremo alle divisioni ed eventuali moltiplicazioni se presenti E poi ha somme e sottrazioni Quindi prima cosa è il calcolo di queste tre potenze 2x alla quarta diviso Meno alla terza, meno 2 alla terza è 8 Fratto 3 alla terza che è 27 Per x alla terza Più 4 terzi x alla terza y al quadrato Tutto diviso Eseguiamo questa seconda potenza Meno al quadrato fa più Un terzo al quadrato farà un nono x quadro Y al quadrato Più Eseguiamo quest'ultima potenza Meno al quadrato farà più 2 al quadrato 4 Per x quadro Y quadro Tutto diviso x y al quadrato x y al quadrato Uguale Adesso dobbiamo eseguire queste tre divisioni Questa prima divisione Questa seconda divisione E questa terza divisione Otterremo tre risultati e poi eseguiremo le addizioni algebriche Ecco qui I due segni relativi alla somma Quindi Eseguiamo queste tre divisioni Allora Portiamo tutto in forma frazionaria Quindi avremo 2x alla quarta Tutto diviso Meno 8 Ventisettesimi x alla terza Più 4 terzi x alla terza Y al quadrato Tutto diviso Un nono x quadro Y quadro Più 4 x quadro Y quadro Diviso x Y al quadrato Tutto uguale Allora Più diviso meno Farà meno Poi Dovremmo moltiplicare 2 Per 8 Ventisettesimi Però ribaltato Quindi 2 per 27 ottavi Per x Per x Elevato alla 4 Meno 3 Poi Più diviso più Farà più Dovremmo Dovremmo poi moltiplicare Per quanto riguarda la parte numerica 4 terzi Per un nono ribaltato Quindi per 9 Per x Alla 3 Alla 3 Alla 3 meno 2 Per y Alla 2 Meno 2 Tutto uguale Tutto uguale Meno 27 Meno 27 Quarti x Perché abbiamo x alla 4 Meno 3 Che fa 1 Più Qui possiamo Semplificare il 3 Con il 9 Avremo qui 1 E qui 3 Quindi 4 per 3 12 X Alla 1 Perché 3 meno 2 Fa 1 Per y Alla 0 Che fa 1 Più 4 X Anche qui Perché x Elevato alla 2 Meno 1 Che fa 1 E y 2 Alla meno 2 Che fa 0 Ora Osserviamo che questi sono 3 monomi simili In quanto hanno la stessa parte letterale Mettiamo in evidenza la parte letterale Quindi avremo Meno 27 Quarti Tra parentesi Più 12 Più 4 Tutto uguale X Minimo comune multiplo È evidentemente 4 4 diviso 4 1 Per meno 27 Mi darà Meno 27 4 diviso 1 Fa 1 Per 12 Quindi più 48 E infine 4 diviso 1 Che fa 4 Per 4 16 Quindi più 16 Chiuso a parentesi Tutto uguale a Meno 27 Più 48 Più 16 Ci darà 37 Quindi avremo 37 Quarti X Che è il risultato Della nostra Espressione